Siamo con il volo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Dieci anni fa ti lascio una canzone, si festeggiano dieci anni sempre sul palco dell'Ariston, c'è chi li festeggia con una torta e voi con una nuova partecipazione al festival di Sanremo. Con una nuova canzone, con una nuova partecipazione a Sanremo, esatto, con un nuovo disco tra l'altro che uscirà. Sarà una grande festa, abbiamo deciso di tornare proprio per questo, per festeggiare, celebrare quelli che sono dieci anni di musica, di amicizia, con una nuova canzone, con Musica che resta. Musica che resta, la musica più forte dell'amore o è la stessa cosa? No, veramente Musica che resta allude a una storia, ecco, a tutte le storie del mondo perché di solito si usa una colonna sonora in ogni relazione che possa essere un'amicizia o un amore e Musica che resta appunto dice questo, che a volte la musica è quello che resta di un rapporto. Cosa ricordate della prima volta sul palco dell'Ariston quando eravate ancora dei bimbetti? La prima volta sul palco dell'Ariston è stato il nostro primo incontro, il nostro battesimo, quindi abbiamo ritenuto fosse stato giusto ritornare sul palco dell'Ariston dopo dieci anni appunto perché è il palco che ci ha visto nascere. Invece della vittoria di quattro anni fa? Io non mi sono reso conto che avevo gli occhiali, potevo sembrare antipatico ma è che il sole è forte, scusate. Della vittoria di quattro anni fa è stata una delle emozioni più forti che abbiamo vissuto, però ci tengo a dire che tra l'altro abbiamo avuto l'onore di incontrare varie volte Papa Francesco in udienza privata, però avevamo espresso un desiderio, quello di cantare per lui un giorno. Ve lo stavo per chiedere. Esatto, ti ho anticipato. Abbiamo cantato alla giornata mondiale della gioventù a Panama poche settimane fa una nostra Ave Maria che è stata scritta per noi proprio a un metro e mezzo da Papa Francesco e devo dire che oltre alla vittoria a Sanremo del 2015 questa sicuramente è stata l'esperienza più bella della nostra vita. Un'emozione fortissima come immagino anche tornare qui sul palco dell'Arison. Parliamo del vostro nuovo disco, come sarà? E del vostro tour che insomma praticamente girate il mondo come sempre? È un disco che pensiamo che risalti molto le nostre personalità. È un disco chiamato internazionale perché appunto prende i gusti di un po' di tutte le nazioni, i paesi a cui ci andremo a riferire. Ecco, saremo in tour in Giappone, poi torneremo in Italia. Faremo due concerti a Matera che quest'anno è capitale della cultura e che verrà ripreso da un ente televisivo americano quindi lo porteremo a Matera in giro per il mondo quest'anno per chiudere poi il tour italiano all'Arena di Verona a settembre. Voi quando fate i concerti ma soprattutto quando partecipate per esempio al Festival di Sanremo la Standing Ovation ve la cercate proprio scientificamente oppure è sempre una sorpresa, un'emozione perché non manca mai? Ma la Standing Ovation crediamo sia dovuta anche a ciò che cantiamo, al genere musicale che cantiamo e ciò che cantiamo fa parte più o meno della tradizione italiana, quindi è l'eco della forza della musica italiana. A proposito del vostro genere, quando avete iniziato giovanissimi c'è stato qualcuno che magari ha detto ma siete così giovani e fate lirica? Cioè siete stati un po' criticati? Qualcuno vi ha chiesto come mai questo vostro gusto un po' più adulto? Diciamo che non è proprio corretto fare lirica anche perché siamo giovani per fare lirica e non abbiamo quella presunzione anche perché musica che resta non è affatto lirica. Diciamo che non bisogna nemmeno vergognarsi come magari un giovane che decide di studiare al conservatorio o un qualsiasi strumento classico, non bisogna assolutamente vergognarsene, anzi i giovani che studiano i giovani che hanno sicuramente già una voglia di fare su qualsiasi tipo di campo bisogna rispettare e sono un esempio sicuramente per tanti altri giovani che magari non hanno voglia di fare e quindi questo sicuramente è bello. Questo potrebbe anche essere un messaggio ai giovani magari che ci ascoltano e che vedono così crescere e svilupparsi la vostra carriera, ormai siete dei grandi un consiglio che potete dare insomma come si convive tra l'altro artisticamente, litigate mai? Beh è normale che qualche discussione c'è ma è umano viviamo quasi tutti i giorni insieme quindi qualche argomento ci dovrà pure essere e penso sia sintomo di intelligenza discutere e parlare se c'è qualche problema o se c'è qualcosa che non ci va, ma penso che sia stata la forza di questi dieci anni dirci tutto in faccia e mai parlare alle spalle. Questo festival strutturato così da Claudio Baglioni vi piace con questo tipo di musica con questi duetti e questi contrasti? Nel 2019 credo che bisogna dare spazio a tutti i generi musicali e Claudio Baglioni ha dimostrato di essere in grado di farlo portato sul palco dell'Ari sono tantissimi artisti che portano tantissimi generi musicali complimenti a Baglioni. Dove volete arrivare? A festeggiare 50 anni di carriera. Avete fatto tanti duetti con grandi, Barbara Streisand giusto per citarne uno insomma ma ce ne sono tanti altri, avete cantato con molti artisti. Quando si raggiunge un obiettivo bisogna essere in grado di porsi un altro obiettivo mai dire ah sono riuscito a fare quello e cullarsi del fatto di ciò che si è appena fatto. Non vorrei essere ripetitivo però lo sono stato. Invece quando l'ascoltate la musica, che musica ascoltate? Ascoltiamo tutto, tra l'altro anche noi cerchiamo di evolverci in qualche modo disco dopo disco, anno dopo anno, anche perché dobbiamo accontentare un po' tutto il pubblico. Sicuramente un pubblico, ascoltiamo di tutto, prendiamo esempio da tutti i generi musicali per aggiornarsi a livello di arrangiamenti, di suoni, anche vocalmente. E questo è importante per un artista, cercare di esplorare, per migliorare, prendere il meglio anche dagli altri.